domani ci sarà un primo assaggio d'estate per me perché vado per la prima volta in vita mia e mi vergogno perché la mia età dovrei esserci andata praticamente tutte le estati dato che è qua vicino vado per la prima volta alla qualambia non vi dico fare cosa è ancora chiuso mi pare che apre il primo giugno però domani ci sarà un vlog vedo cosa riesco a registrare non penso che riuscirò a registrare tanto perché non so però ci provo ma evviva vado l'acqualandia che per chi non lo conoscesse è il parco acquatico penso più grande del veneto credo è famosissimo facevano anche il festival bar negli anni 80 e adesso però non si chiama più acqualandia si chiama caribe bay e voi seguitemi su youtube non vi siete ancora iscritti al mio canale fatelo subito vi lascio il link in descrizione subito un'inizio